Il 13 giugno del 1944 Chieti fu liberata dai tedeschi. Alla giornata di liberazione e alle vicende di quanti diedero la propria vita in nome della liberazione, il gruppo teatrale Cuncaterra ha dedicato lo spettacolo che appartiene alle manifestazioni per il 25 aprile e andrà in scena il 13 giugno al Marruccino. Quando il grano maturò, storia di gente resistente, die con Marcello Sacerdote alla regia di Laura Curino. In questo spettacolo narriamo le vicende di donne, uomini, bambini, anziani che diedero la loro vita per liberare la loro storia, liberare il proprio territorio da un'oppressione, da un'ingiustizia sociale e per poter riconsegnare alle generazioni future il senso della libertà, della fratellanza, della solidarietà, del vivere civile. Per questo che abbiamo scelto di dare un'anteprima di questo spettacolo che si intitola Quando il grano maturò, nel giorno in cui ricorre la liberazione d'Abruzzo, 13 giugno 1944, in cui fu liberata Sulmone e nei giorni successivi altri importanti centri abruzzesi. Questo progetto fa parte delle iniziative programmate all'interno delle manifestazioni del 25 aprile. Il gruppo teatrale Punta Terra ci ha donato un estratto, un'occasione appunto di quelle giornate, e questa opera rappresenta quello che è l'indirizzo di questa amministrazione, cioè essere capaci, strumento di mettere in rete quelle che sono le potenzialità di associazioni teatrali, culturali, musicali, che raccontino della nostra storia e che diano il giusto valore a quella che è la nostra memoria di Chieti, ma non solo.